Abbiamo scelto una periferia della città di Catania per un percorso esperienziale che sia finalizzato alle mamme del quartiere di Librino e ai loro bimbi perché si possa, mediante questa progettualità, implementare la loro coscienza critica, il loro empowerment e prevenire quello che è una problematica di portata ormai mondiale, un'epidemia mondiale, che è l'obesità e le sue complicanze. L'ASPE collabora in maniera meramente stretta con la Fondazione Food Education Italy per la realizzazione a Librino di questo progetto che si fonda su tre pilastri. La cucina didattica che verrà offerta alle mamme, quindi personale medico-dietista curerà con le mamme la cucina dei piatti nostri tipici della tradizione locale siciliana. L'attività fisica, grazie alle associazioni di volontariato che collaboreranno al progetto, in particolare il CSI, è la possibilità di offrire dei percorsi di counseling motivazionali a cambiamento per supportare le mamme nella loro capacità di modificare gli stili di vita che verrà fatta attraverso l'ASPEC.